Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione lampo dello spettatore sul film Cipria, il film della vostra vita, di Giovanni Piperno e Anna Villari. Questo in realtà non è un film, è piuttosto un documentario, che ci racconta un piccolo spaccato della storia della nostra cara Italia. E questo è un episodio molto particolare, molto interessante. Più o meno nel 40, nel 41, viene lanciata dalla casa cosmetica Giviem, di proprietà tra l'altro di Giuseppe Visconti, il babbo di Lucchino, grandissimo. Praticamente viene, per pubblicizzare questa Cipria, viene lanciato questo concorso pubblicitario dove donne da tutta Italia dovevano mandare dei racconti della propria vita e le storie, i racconti più interessanti sarebbero poi stati trasformati in un film oppure mandate in radio. Dietro all'idea di questo concorso c'era dietro niente po' di meno che Cesare Zavattini, lo sceneggiatore soggettista dei film più belli di Vittorio De Sica, tra cui Sciuscialla delle biciclette, Miracola a Milano, Umberto Dì, eccetera, eccetera, eccetera. E a proposito, nella giuria che doveva appunto valutare le varie storie, c'era anche Vittorione. Insomma, non per spoilerarvi, però, data la guerra, il concorso non va a buon fine e quindi queste storie poi non sono state mai più raccontate, finché Piperno e Lavillari decidono di prendere tutte le migliori riprese dall'Istituto Luce e anche dall'archivio delle riprese di un marchese e il Marchese Chiari e riescono a raccontarci questa storia anni e anni dopo. Cipria ci racconta di tre storie di tre donne diverse, tutte raccontate dal punto di vista della prima donna che racconta la sua storia, che tra l'altro è quella più terra-terra, se vogliamo quella neorealista, quella più neorealista, infatti ha vinto anche il concorso. E il fatto che la storia ci venga raccontata dal punto di vista della prima protagonista, della prima storia, è molto intelligente perché rende il film tutto più coeso. All'inizio mi sarei aspettato un film diviso in tre parti, invece così ha molto più senso, lo guardi molto più volentieri e in più il lavoro di montaggio, come ho detto, è stato geniale, le scelte delle immagini sono state perfette e le nuove riprese fatte da Piperno sono bellissime, quindi veramente non so che altro dire. Se potete recuperatevi Cipria, se riuscite, in qualche modo vedrete che ce la fate, non smettete di crederci. Ci sentiamo alla prossima recensione Lampo dello spettatore, grazie a tutti per l'attenzione e buone!